Da Romano di Lombardia è tutto, una caduta, una caduta non preventivata, non mia stavolta Ciao a tutti, ciao, uno sponso Il programma di oggi, da Romano di Lombardia, andiamo verso Bergamo Alta e ritorno 57 km circa, ci aspettavamo più freddo ma si sta abbastanza bene, speriamo si scaldi Ancora un paio di gradi dovrebbero esserci dopo, andiamo a vedere un po' com'è questa sponda dell'Adda No, del Serio, è del Serio, si, luoghi a meni sulle sponde del Serio Con i pazzi che vanno a correre i pantalicini corti Ogni tanto se ne incrocia qualcuno anche in bici Comunque dopo settimane di Adda ci godiamo qualcosa di diverso Facciamo un giro più interno La battutona della domenica mattina Siamo appena partiti L'idea... Sinistra o? No, destra e poi sinistra Cos'ho fatto c'è anche scritto L'idea era di andare un po' su Fare un po' di dislivello ma c'è neve ovunque Neve freddo, non era il caso La temperatura comincia a salire, ci scaldiamo Abbiamo già iniziato a scoprirci Avanti a noi le Alpi Bergamasche E' la nostra sinistra al Serio Comoda sassaiola E' una full che aiuta Eh, si infatti c'è il culo che vibra Siamo giunti al Bike Park di Ghisalba Ghisalba, si Circuito XC Adesso andiamo a vedere com'è Facciamo un giro di perlustrazione Sembra... Tecnico Ben organizzato Sicuramente per fare scuola qua Sono già stanco Grigna Sì 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 vabbè io riprenderei l'acciclabile che figa se non ci arriviamo più a Bergamo Alta siamo ormai giunti a Bergamo sto parlando con la GoPro sto dicendo che siamo giunti a Bergamo e da qua proseguiamo per Bergamo Alta il paesaggio non è più piacevole come prima per il momento stiamo su strade provinciali ma sicuramente Bergamo Alta goderemo di un bel panorama a sinistra Jeff si se ci lasciassero l'acciclabile non capisco perché le macchine devono andare sull'acciclabile oh era un po' che non facevamo salita ah è vero tu 2004 altra volta e io l'ultima che ho fatto era Trezzo l'ultima salita che ho fatto era quella di Trezzo Jeff si è già dato alla fuga e attacca sempre la salita con cattiveria io mi godo il panorama spettacolo ancora 75 metri di dislivello per poco meno di un chilometro fin qua percorsi 28 chilometri insomma metà del nostro giro dopo città alta abbiamo deciso di proseguire verso San Vigilio dove secondo me c'è il ristorante migliore del mondo Giacomo ce lo siamo già perso qua arriviamo su da dietro non è quella ripida ripida no quella ripida ripida è davanti dall'altra parte si dovevamo entrare in città alta io ho le gambe un po' di legno il ritorno sarà duro il ritorno sarà duro che non è mai alta come la billetta pezza e io ho mangiato più volte qua cosa? il ristorante? no aspetta che faccio una foto sul piazzale della chiesa ma dove? a vedere un altro? no no qua no ok no 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 è ora mi sa chi questa è brutta perché pensavo che ci mandasse giù giù un po' l'atenze alla fine consapevole l'attenzione spesso Papa vado a presentare la pete il primo złoto lei non mi diceva più ho lato Hope mi diceva di rubare Sì, sì, con calma ci arrivo. Oh, non ti avessi capito! Stavo discendendo! Ciao! 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 Oh, fatti un saluto al nostro pubblico YouTube che è... Il nostro numero uno! Che bello che è! Bellissimo! Qua andiamo giù verso sinistra Direttivo 4 Lasciamo anche Bergamo Alta dopo aver salutato Robin Orr e torniamo sui nostri passi verso il serio In discesa In discesa percorsi 42 km e a spanne ne mancherà una ventina 488 metri di dislivello positivo per la salita 12 birre 12 birre guadagnate fin qua secondo il contatore Garmin 12 birre? Beh, non me ne bevo a casa Giacomo se non lo fa il musicista non è contenta deve sempre suonare... tutto deve fare più... poi sei proprio stronzo perché aspetti di suonarlo quando sei a un metro dalla gente che è... prende l'infarto a tutti qua è fatica forse... ritroviamo un po' di pace adesso se vuoi falla io... ho accusato crampi alla gamba sinistra prima volta che mi succede la dieta povera di carboidrati sicuramente non è d'aiuto la sponda di destra è decisamente più faticosa di quella di sinistra parliamo di destra orografica saliscendi, sassi fondo sconnesso si è portato via tutto qua ci tocca fare i campi ancora per un chilometro e mezzo la sponda di destra presenta dei punti che sono crollati nel serio quindi in alcuni tratti bisogna passare per campi col fango non proprio agevole da Romano di Lombardia è tutto una caduta una caduta non preventivata non mia stavolta registratevi iscrivetevi al canale mettete like ci vediamo vi offriamo una birra se venite con noi bravi ha il senso unico di soltarico ciao 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 ciao